Buongiorno e benvenuti, siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo per parlare di DEF, il documento approvato la scorsa settimana per la precisione martedì undici aprile dal governo Meloni. Chiederei al prof Palermo di spiegarci un po' che cos'è il DEF, di cosa si tratta e cos'è questo documento. Allora il DEF è un documento che viene approvato ogni anno più o meno in questo periodo, in questa stagione, dal governo, dal Consiglio dei Ministri ed è un documento che fornisce indicazioni di natura macro, diciamo così, sulle linee di tendenza delle scelte politiche ed economiche del governo stesso. Bene, ma che rapporto c'è tra il documento di economia e finanza e la legge di bilancio? Allora il DEF è appunto un documento di carattere macro e serve ad indirizzare poi le scelte più puntuali e più precise della legge di bilancio che come sapete sarà poi in lavorazione a partire dal mese di ottobre, alle volte anche da novembre e che poi viene approvata alla fine del mese di dicembre. Il passaggio dal DEF alla legge di bilancio avviene durante il mese di settembre normalmente con un nuovo documento che si chiama NADEF, cioè nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Ecco, poi nella legge di bilancio invece si parla proprio degli stanziamenti e quindi delle risorse che capitolo per capitolo vengono messe a disposizione dello Stato per fare poi le attività previste appunto dalla legge di bilancio stessa. Andiamo nel concreto. Il DEF di quest'anno, nel 2023, in cosa si contraddistingue? Un tema molto importante che viene toccato dal DEF del 2023 è quello delle dinamiche demografiche. Leggo testualmente dal documento. Da tempo le proiezioni ufficiali evidenziano una tendenza ad un rapido invecchiamento della popolazione, tendenza comune a molti altri paesi europei, anche se con intensità diversa. Questo significa da un lato una riduzione significativa della popolazione attiva, ma dall'altra un aumento delle spese di natura sociale, soprattutto quelle legate all'invecchiamento. Quindi un aumento della spesa previdenziale, della spesa assistenziale, di quella sanitaria per l'assistenza a lungo termine. Al contrario, si legge sempre nel DEF, ci saranno esborsi meno importanti, meno significativi per l'istruzione, proprio a causa del progressivo calo delle nascite e quindi della quota di popolazione in età scolare. Ecco, prof, a proposito di ciò, il DEF fornisce qualche numero? Certo, il DEF fornisce dei numeri molto importanti e ci ricorda che oramai i nati nel nostro paese sono ad una quota inferiore alle 400.000 unità, quota minima toccata proprio durante il 2022. Ma non è soltanto questo. Se si fanno delle proiezioni un pochino a lungo termine, a medio-lungo termine, si scopre che nel 2070 noi potremmo avere una popolazione appunto di meno di 48 milioni di abitanti, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Cioè qui si parla di una perdita di nati di diverse centinaia di migliaia di unità ogni biennio, ogni triennio. Quindi questo vuol dire che veramente il nostro paese rischia di diventare un paese di vecchi. Certo, una situazione drammatica. A proposito di ciò, cosa dice il documento nel concreto a proposito della scuola? Il documento di economia e finanza del 2023 spiega abbastanza chiaramente quale sarà nei prossimi anni la dinamica della spesa per l'istruzione. Perché ci dice questo, che nel 2020 la quota di risorse destinate all'istruzione era del 4% rispetto al prodotto interno lordo. Oggi questa quota è leggermente inferiore, siamo al 3,7-3,6% e per i prossimi anni ci si aspetta di ridurla al 3,5%. Questo 3,5% nell'arco di un paio d'anni si dovrebbe assestare e dovrebbe rimanere più o meno la stessa per alcuni decenni. Il problema però è questo, che se il prodotto interno lordo diminuirà, come è anche possibile visto che diminuirà la popolazione attiva, è evidente che diminuirà anche il valore assoluto della spesa da destinare alla scuola. Quindi questa è la macro previsione. Macro previsione che poi ovviamente vale quello che vale perché ci possono essere poi elementi non facilmente prevedibili nei prossimi anni. Certo, certo. Quindi in generale cosa prevede questo documento in termini di risorse? Allora queste risorse appunto sono queste che abbiamo detto, saremo intorno al 3,5% rispetto al PIL, se il PIL resta quello di oggi saremo ad una spesa per la scuola più o meno intorno ai 40-42 miliardi all'anno e a che cosa serviranno questi fondi? Allora dice il DEF dobbiamo proseguire con gli impegni presi dentro il piano nazionale, dentro il PNRR e cioè noi dobbiamo lavorare per avere una scuola per tutti e di tutti, lavorare per ridurre i divari territoriali negli esiti di apprendimento, per favorire la piena inclusione scolastica degli studenti anche di quelli più fragili, contrastare la dispersione scolastica grazie anche alla estensione del tempo pieno a istituti scolastici allocati in edifici migliori, più sicuri, più ampi, più accoglienti anche per i ragazzi stessi. Si parla di aprire le scuole al pomeriggio attraverso anche una didattica più laboratoriale che possa, come dire, essere più attrattiva per gli studenti stessi, quindi questo sempre nell'ottica di ridurre appunto la dispersione e di ridurre l'abbandono scolastico. Si parla persino di ampliare le azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva e quindi di realizzare impianti sportivi e palestre proprio dedicate ai giovani e dedicate agli studenti, una migliore personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, quindi come abbiamo detto attività di tipo laboratoriale, maggiore attenzione alle competenze, alle discipline STEM che sono, secondo il governo, ma non solo secondo il governo, sono fondamentali per accedere al mondo del lavoro e per migliorare, aumentare le proprie competenze. L'ultimo punto è l'attenzione sulla istruzione tecnica, di cui ha parlato di recente anche il ministro Valditara, tema sul quale non solo questo governo ma anche i governi precedenti hanno sempre detto molto, hanno sempre detto tutti di volersi impegnare sull'ampliamento dell'istruzione tecnica e dopodiché però i risultati li vediamo, l'istruzione tecnica continua ad essere un po' considerata spesso anche dalle famiglie, una istruzione un po' di serie B rispetto a quella liceale. Ecco, vediamo se questo governo riuscirà ad invertire anche leggermente questa tendenza. Bene, bene, grazie al vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo, per averci fornito questo quadro completo sul DEF e le conseguenze per la scuola e ci vediamo al prossimo approfondimento. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.